L'importante di oggi, il taglio dei parlamentari. Allora, io ce l'ho qua, il quesito. Il tema più importante continua ad essere il lavoro, in base a quello di cui discutevate prima. Che cosa vota lei a questo quesito? Abbiamo votato quattro volte per il taglio dei parlamentari, non sono Di Maio che cambia idea. Ho votato quattro volte nella stessa maniera, voterò per la quinta volta nella stessa maniera. Perché i 5 Stelle continuano a dire che lei è il grande regista di questa storia, che lei ha convinto quelli di Forno, oggi il travaglio fa un intero pezzo. Lei ha convinto quelli di Forza Italia a raccogliere le firme, a fare tutto questo, perché sa che è così, le dico una versione, sa che è così. I parlamentari, sapendo che adesso se andassero a votare prima, i 300 posti in palio non ci sarebbero ancora, hanno un motivo per andare a votare, cosa che lei sa benissimo, non avevano fino a un secondo fa, perché invece avevano il rischio di non essere eletti nella prossima gelatura e stavano attaccati alle loro poltrone. Quindi Salvini, che capisce che al voto non ci si va anche per le grandi resistenze del Parlamento, architetta, questa cosa di appoggiare questo referendum, mi fanno più intelligente di quello che sono. Mi fa piacere che si faccia, ha detto, quindi l'hanno detto verità, quindi è contento. Io adoro il referendum a prescindere, in Svizzera votano ogni mese, e secondo me il popolo è giusto che dica sì o no alle scelte del Parlamento. Poi ho votato quattro volte per il taglio dei parlamentari, voterò la quinta volta per il taglio dei parlamentari. Mi permetta, però adesso sta roba di Travaglio, Di Maio e Grillo che è sempre colpa ai Salvini.